Il DN Qualifier, in genere denominato IUT, codice univoco del titolare, è un codice presente in ogni certificato di firma emesso associato al titolare del certificato che lo identifica presso il certificatore. Qualora sia necessario reperirlo, ad esempio in particolari casi di revoca del certificato stesso, devi avviare il software ArubaSign, selezionare la scheda Verifica e caricare il file firmato mediante il pulsante Seleziona documenti, oppure selezionarlo e trascinarlo all'interno della schermata. Dalla finestra visualizzata, in corrispondenza della firma, apri il menu Mostra dettagli e clicca sul pulsante Mostra certificato. Dalle rispettive schede Generale e Dettagli, in corrispondenza della voce Rilasciato, è visibile il DN Qualifier. Clicca su Chiudi per tornare nella schermata precedente.